Calciomercato Napoli, tentativo per Pastore? Per la porta piace Areola Dopo l'Inter, il Milan e la Juventus, anche il Napoli si muove sul mercato. Ore calde per il club di Aurelio De Laurentiis, che intende rinforzare la Rosa a disposizione per continuare a lottare per lo scudetto e per affrontare nel migliore dei modi la Champions League nella prossima stagione, con l'acquisto di Verdi che sembra essere vicino. Dopo l'addio di Reina, i partenopei sono alla ricerca di un degno sostituto e i nomi principali sono due, Rui Patricio e Areola. Per quanto riguarda la tre quarti, gli azzurri sono alla ricerca di un fantasista, un calciatore che possieda notevoli doti tecniche, e il nome giusto potrebbe essere quello di Pastore, in forza al PSG. Idea Pastore, piace ad Ancelotti. La notizia delle ultime ore è proprio questa, il Napoli vorrebbe acquistare Iavi e Pastore, trequartista di proprietà del PSG. Secondo quanto riporta ESPN, il centrocampista argentino sembrerebbe ormai aver terminato la propria esperienza a Parigi e sarebbe pronto a cambiare aria. Il calciatore piace tanto a Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe con sé a Napoli, come ha evidenziato l'attuale proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, a Radio Kis Kis Ancelotti? Lui stravede per il flaco, me ne ha sempre parlato molto bene e l'avrebbe voluto anche quando era al Milan. Una sera, Carlo lo stava esaltando particolarmente, ed io ero felice perché sapevo che Sabatini l'aveva già acquistato per il Palermo. Lo pagammo ben 15 milioni, rivendendolo a 43 dopo qualche anno. E un gran calciatore e un grande uomo, indubbiamente a Napoli si troverebbe benissimo. Il Napoli vorrebbe provarci seriamente, perché come detto precedentemente, il fuoriclasse argentino vorrebbe provare una nuova esperienza e nel club partenopeo potrebbe trovare il suo posto. Dopo ben otto anni, il calciatore potrebbe dunque tornare in Serie A. Tuttavia, il Napoli non è l'unica squadra interessata a Pastore, poiché piace molto all'Inter e in Premier League, ma a pesare sulla decisione finale del calciatore e ad indiridarlo verso il club partenopeo, potrebbe essere proprio il buon rapporto con Carlo Ancelotti. Per il dopo Reina, si pensa a Rui Patricio o a Reola. Dopo l'addio di Pepe Reina, il Napoli è ancora alla ricerca di un portiere. Inizialmente, il club partenopeo aveva messo nel mirino Rui Patricio, estremo difensore classe 1988 dello Sporting Lisbona, piace molto ad Aurelio De Laurentiis e potrebbe a Napoli anche a parametro zero. Tuttavia, con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina, i cambi degli azzurri sembrerebbero essere cambiati. Al neo mister partenopeo piace molto a Reola, portiere del PSG, che potrebbe lasciare la Francia. La trattativa sembrerebbe più complicata rispetto a quella che porterebbe all'arrivo di Rui Patricio, ma Ancelotti vorrebbe provare a portare in azzurro il giovane estremo difensore del club francese. Grazie a tutti!